Signor Sindaco, poche ore alla sfilata, siamo qua alla RT per seguire da vicino i lavori che lei ben conosce, visto che oltretutto è anche produttore dei fiori. Come sta andando? Direi bene, c'è un grande entusiasmo, una partecipazione, questo è proprio lo spirito anche di creare un carro, dietro questo lavoro si vedono i fiori ma c'è veramente tanta passione e tanta arte, un grande contributo di tutti, siamo dietro il carro di Sanremo e col cuore siamo quattro e ci sono dei lavori straordinari da partecipi. Mentre registriamo sta per iniziare anche la festa delle bande nel centro della città, una città che sta vivendo due giorni molto molto belli. Sto vivendo due giorni straordinari, spartiamo anche questo mito che i cari fioriti sia una giornata di turismo, in realtà già oggi la città è piena, ci sono tanti pulmi, gente per strada, dunque sarà gente che si fermerà questa sera, facciamo anche ringraziare l'ufficio turismo che sta portando avanti con molto impegno, l'assessorato e tutti quanti per questa riuscita e queste importanti manifestazioni per la nostra città e il nostro territorio. Le consento tutti gli scongiuri del caso, sembra che finalmente domani si possa vedere una bella giornata e quindi si prospetta davvero una grande giornata di fiori. Sembrerebbe proprio così, dunque giornata sempre col sole e soprattutto con tanti fiori.